Ben ritrovati dalla redazione sportiva di News24.city. Calcio Champions League, crisi Napoli, azzurri battuti al San Paolo dal Besiktas. Larghe vittorie per Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal e Paris Saint-Germain. Volley Superlega, Modena e Civitanovo Key nel quarto turno. L'Ube resta in testa. Prima vittoria per Vivo a Milano, Superrimonta del Piacenza a Molfetta. Volley mondiale maschile, Trento sul classe e il Minas all'esordio. Mosso il primo passo verso le semifinali, oggi sfida al Bolivar. Volley mondiale femminile, Casal Maggiore vince al Tybeck contro Rexona. La squadra lombarda resta in corsa per la semifinale. Ciclismo presentato il Tour de France 2017. Si partirà da Düsseldorf prima dell'arrivo a Parigi, crono di 23 km a Marsiglia. Tennis ATP di Mosca, Fonnini batte nel derby Lorenzi e conquista i quarti di finale. Affronterà il vincente del match tra lo spagnolo Ramos e il russo Donskoi.